il 5 pollici che sarà disponibile da settembre diagonale molto ampia in un telefono davvero sottile e leggero qua per esempio un gs3 vi faccio vedere la differenza di dimensioni come vedete praticamente inesistente anche lo spessore è uguale ma eluga ha ben 5 pollici il display ovviamente 720p quindi una risoluzione di 1280x720p c'è installato Antutu Benchmark quindi possiamo vedere le informazioni dell'hardware qua la CPU, la risoluzione dello schermo la GPU di Qualcomm, la Dreno 225 per quanto riguarda la GPU e la CPU la MSM8960 fluidità buona per un telefono che mantiene l'imperialità come caratteristica fondamentale della linea eluga